Io ho personalmente, ho sempre avuto qualche resistenza a usare materiali che imitano altri materiali, però devo dire che la qualità è talmente alta, soprattutto in ambito retail, ne ho fatto un impiego importante in diverse catene di negozi e continuo anche a farlo. La matericità è vincente, il mattone piace moltissimo, ma anche molto il cemento a vista. Mi piace molto perché fai l'architettura dello spazio. Lavorando in ambito retail su negozi di grandi dimensioni, dove c'è bisogno di molta atmosfera, questi sono materiali che hanno molto calore e riescono a fare l'architettura. Quello che chiedo a materiali come questi è sicuramente la facilità di posa, un grande realismo. Io normalmente non uso molto la decorazione, quindi questi materiali hanno la capacità di creare lo spazio e l'architettura senza bisogno di grandi decorazioni. I negozi fatti per Casanova hanno vinto già per due edizioni un importante premio italiano per i migliori negozi in Italia. Credo anche un po' grazie ai pannelli della Panisport.